buonasera cicciudi medievalizzati dal vostro dictator lawrence benvenuti benvenuti buonasera yenap duca sabaudo il francesco che è a caccia buonasera anche a tora ciao ragazzi ciao fidelis benvenuti in questa nuova live in questa serata dedicata ad un titolo che è stato in in alfa e successivamente in beta per lunghissimo tempo pubblicato sui vari marketplace steam incluso ma che fino ad un mesetto fa non ne voleva uscire dalle versioni provvisorie che erano estremamente bagate io lo provai tanto tempo fa e adesso che è uscita la versione definitiva ho deciso di giocarlo insieme a voi questa sera lo proveremo andiamo a praga andiamo a praga allora qui abbiamo 10 addirittura 10 dinastie abbiamo addirittura 10 dinastie livello di difficoltà terrei normale e partiamo allora dobbiamo creare adesso il nostro personaggio eh sì von braun eccolo von braun von braun si sta a prova rosalindo von braun allora dobbiamo scegliere la nostra abilità di partenza allora noi possiamo essere dei contadini possiamo essere dei frutticoltori e cambiano ovviamente anche ehm gli edifici iniziali che possiamo sbloccare cambiano le abilità e anche ehm diciamo le cose che potremmo commerciare all'inizio possiamo partire come frutticoltore possiamo partire come pescatore come artigiano come stanchino come vasaio erborista predicatore barbiere rapinatore becchino e menestrello se tu fossi nato nel 1400 e fossi emigrato in boemia a praga che lavoro grazie matthew yes siamo a 7 tra 13 parte il giveaway si mette ogni tanto da 100 anni di vita a matt invece facciamo scegliere lo scudo araldico facciamo buonasera arrivan ciao ex jack angelo tripepi ah minchia angelo tripepi quanto tempo quanto tempo allora gli artigiani producono beni di base guadagnandosi così una modesta retribuzione benvenuto lorz il barbiere vuoi fare? barbiere di praga barbieri sono popolari cavadenti popolari cavadenti i dentisti praticamente tagliatori di capelli e fornitori di bagni accorre voce che le persone si comportino in modo immorale nella vasca quindi fa molta attenzione andiamo a lavare la gente ma do certo che lavare una persona nel medioevo deve essere uno schifo mio signore si si proprio igiene più cento vuole fare il barbiere mio signore famo i barbieri il barbiere non disperse neanche a me buonasera il barbiere allora iniziamo a scegliere gli abiti vediamo un po' cosa c'è c'è questo oppure questo andiamo un po' così c'è la scodellina lì la cuffietta la cuffietta l'abito 3 sembra più da menestrello ma cos'è sto gatto? oddio c'è un gatto questo ha su una sorta di gilet una cotta di maglia? no credo che sia credo che sia un un gilet tipo in juta sai quello schifo che mettevano nel medioevo mio signore bisogna trovare qualcosa che si addica ai vestiti da barbiere questo qua è Marco Pantani è il pirata poi c'è questo che è diciamo abbastanza standard sì basic questo col pellicciotto manca la catenazza d'oro questo del 400 e poi vabbè c'è questo qua col saio yeah come sei di corporatura Von Braun? che lo facciamo facciamo come te sei oversize sei secco sei normale meccalbor con la pelliccia vuoi la pelliccia? così è fratacca mio signore cioè guardalo così è troppo fratacca ma basta ma perché questo gatto continua a fare sti versi? so che sembra un tipo qualunque francopio però noi stiamo partendo proprio dal basso quindi per forza grazie GBP mio signore è arrivato il GBP grazie mille grazie di cuore sblocca il giveaway e che cosa vi regalo? ha ha devo guardare però lo facciamo partire dopo che abbiamo scelto il personaggio perché se no restiamo qua tutta sera sei d'accordo GBP? anzi guarda visto che abbiamo fatto scegliere allora a Von Braun il cognome a Matt facciamo scegliere la raldica a GBP gli facciamo fare i punti abilità quindi io però ho bisogno ho bisogno la pancetta sì la pancetta così è un panzone a parte che numero 40 di scarpe sto tizio il 65 no così è troppo così è ciccio mio signore no così è cioè certo che qua o sei secco o comunque sei in carne non c'è la via di mezzo grazie Matthew dai facciamolo il personaggio 2 potrebbe si potrebbe sembrare anche abbastanza sentiamo la voce sentiamo la voce vai sì questa mi piace sì bello 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 allora Rosalindo Von Braun come potete ben vedere la città è composta da diverse sezioni noi abbiamo noi viviamo in quanto plebei fuori dalla cinta muraria non abbiamo il privilegio né di stare con i nobili né di stare con i borghesi siamo proprio confinati relegati in questa zona a ridosso del fiume allora allora dopo facciamo anche un tour per la città grazie Matthew dunque 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 dov'è che siamo noi aspetta fammi centrare la visuale su questo Rosalindo allora noi abitiamo qua noi abbiamo l'uccello qua questa questa fenice come simbolo della nostra della nostra dinastia le cose che possiamo fare all'inizio ragazzi sono eh abbastanza limitate nel senso che noi partiamo con 3000 di denaro ma non abbiamo entrate e a livello di costruzione dobbiamo ovviamente andare a costruire la capanna del barbiere che è l'unico edificio che al momento abbiamo sbloccato come lo chiamiamo dai ragazzi pelo e contro pelo pelo e contro pelo mi piace pelo e contro pelo bella mi piace allora adesso dobbiamo scegliere dove costruire io direi che potremmo metterlo allora nel medioevo va detto che la vita sociale si svolgeva in due luoghi al mercato e in chiesa quindi tutte le signore che si devono agghindare che devono oh devono stare in questa zona qua quindi secondo me farla in questa zona qua potrebbe essere interessante madonna che palle che palle però potremmo farla ciao metter sei arrivato facciamola qua dai abbastanza centrale siamo vicini al mercato siamo vicini alla chiesa oddio questo è il medico della peste madonna che ansia dove è il nostro personaggio aspetta facciamo facciamo un giro la visuale dall'alto così con gli edifici mi fa ricordare un botto banished si ce l'ha del banished allora andiamo in chiesa guardo il medico della peste cassetta delle offerte direi di no siamo poveri in canna oh ma chi sei tu petta 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 vieni qua vieni qua vieni qua la seduciamo allora che tipo di come si dice approccio vogliamo avere che dio benedica no ok è andata in automatico affinché tutto ciò che con essa fate abbia successo è un po' ambigua questa frase questo è quanto vi auguro e io vi auguro lo stesso mio caro beh dai c'è del tenero tra i due regaliamogli un fiorellino sì ma questa c'ha 49 anni no 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 mio signore vai via magari ha dei bambini no via show allora dove è il nostro dove l'abbiamo fatto noi eccolo qua questo è il nostro capa ma c'ha l'uccellino capanna dello stagnino cacchio sai che non mi ricordo dove abbiamo fatto l'abbiamo messa vicino al fiume forse ma scusami dovrebbe avere lo stendardo allora era così la visuale all'inizio eccola qua eccola qua l'hai trovato il nostro barbiere allora il nostro obiettivo è quello di occuparci dei clienti quindi non siamo dei produttori non siamo siamo diciamo nella categoria servizi ecco noi abbiamo bisogno di gelsomino e di rosa canina che abbiamo già ovviamente in deposito perché nello stock comprende quello allora noi possiamo decidere se lavorare direttamente o assumere dei dipendenti io assumerei dei dipendenti mio signore assumiamo due dipendenti e un trasportatore ok e andrei di produzione automatizzata che cosa produciamo noi qua dentro noi facciamo il sapone per il barbiere e facciamo anche l'acqua di rose per fingere che la gente nel medioevo possa profumare in qualche modo poi si ammalano di peste per di gente che sta morendo di sete beve la pozione all'acqua di rose che crepa male allora esatto guardalo qua ma cos'è sto bollitore mio signore ma sta stufa mi sembra ma nel 400 avevano sto genere di stufe mio signore ma è strana sta cosa allora noi abbiamo aperto il nostro barbiere vorrei controllare che lavori si lavorano allora produttività al 105% soddisfazione del cliente più 10 per il momento noi abbiamo speso 2030 ok il valore dell'edificio vedete che comunque aumenta perché più lavora più acquisisce valore quindi in realtà in un domani possiamo anche decidere di venderlo ma non al momento perché noi dobbiamo rientrare comunque di un sacco di spese noi siamo single mio signore ma com'è casa nostra casa pulce casa si chiama questa ma noi siamo i vicini ok la nostra casa si chiama cugini di campagna fammi andare fammi andare a vedere cosa c'è dentro qua per favore voglio vedere che è un tugurio mio signore ma dove cacchio abitiamo qua partiamo dal bus quindi qua c'è Matt spiattellato al muro poi abbiamo delle candele una mola madonna raga certo che veramente la vita nel medioevo era proprio di una tristezza ma dove dorme scusa ah sopra ok sopra va bene da notare le finestre cioè deve essere una casa non poco luminosa cioè un tugurio proprio vero e proprio qua cosa c'è dentro qua abbiamo dentro un cambio un elmo delle mappe un teschio ok così ok menu edificio banco da lavoro cosa fa se io clicco lì cos'è che fa perché noi possiamo anche assumere degli schiavi in casa ah ok vabbè lo lasciamo libero un attimo questo cosa fa giustamente per la sua si alcolizza cioè si è seduto da solo ha iniziato a bere vabbè comunque usciamo fuori che devi perché forse ho capito la vita che sta passando si infatti poverino troviamoli qualcuno con cui copulare selvaggiamente se no che palle c'è san noi anche ma dove è andato il nostro tizio ma ci stiamo lavando a e vestiti madonna certo che lavarti immagina immagina una povera ragazza che deve venire qua a farsi il bagno e c'ha questo tizio di fianco che gli tiene l'asciugamano torno subito no 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 la sauna no 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 ma perché stiamo facendo il bagno insieme a questo ecco vai via che è meglio per amorti dio niente niente ci dobbiamo accontentare della chiattona io non stacco finché non 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 è diventata una questione di principi no di onore di onore cioè di virilità ecco come fa a guardarsi allo specchio questo dopo che è stato rifudiato da un comò spiegamelo eh non può ma certo che ci tornerò sul gioco cioè devo fare dei powerful babies se non faccio dei powerful babies non sono contento io corri 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 ragazzo laggiù barabara tromba dappertutto su e giù barabara e magari questa questa Federica 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 chi è Elisca 34 anni aspetta 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 momento 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 ma no ma è una pezzente questa ah no fammi vedere se per caso per caso per caso ma porca miseria aspetta aspetta che c'è Elisca mamma mia mamma mia madonna a fuoco la faccio dimagrire ecco bravo yes my heart yes my heart yep yep of course ed è che ho anche gli abiti da Patrizio questi sarebbero gli abiti da Patrizio? insomma siamo lì lì dai prima che svanisce il profumo del bagno donna col cavallo fermati ballare con noi vuole ballare adesso vado di letto oddio ma ce n'è un altro uguale a lei allora va di moda essere grassi ti prego non mi ripudiare oddio 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 sì siamo arrivati nella ci abbiamo messo quattro anni per trovare una cofana cioè una cofana però lei è cittadina e c'è il gay mia amatissima il mio cuore riesce a malapena a contenere la mia eccitazione siete il mio unico amore e voglio passare il resto della mia vita con voi volete sposarmi? no finalmente gente certo che voglio sposarvi sì uno che mi dà il caso incredibile non ci credevo neanche lei ok io non ho rinunciato tutto matrimonio matrimonio ovviamente in chiesa facciamolo nella casa di dio non fraintendete eh questa è pure perversa in giro con sta torcia oh che gioia però il matrimonio fastoso che ho sempre bravo genufletti ti hai già capito bravo sì 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 non posso neanche dirti in cucina perché se no si mangia tutto ah ma va in chiesa oddio matrimonio in chiesa 150 ah però ci sposiamo oddio adesso lui si innamora di lei a luna di notte ci sposiamo per unire Rosalindo von Braun e Vratislava Hus e tu Rosalindo vuoi prendere Vratislava Hus come tua legittima sposa per amarla rispettarla e farla dimagrire finché morte non vi separi se sì no rispondi lo voglio sì diciamo di sì più o meno ragazzi ci sono c'è anche il medico della peste che guarda il matrimonio raga guardalo guardalo è bonus di di sì di di sì che diventi mia diventi l'oggetto del desiderio sì adesso cuciniamo anche lei si sboccia abbiamo trovato lei Claudio vabbè che cazzo è un ritrovo di medici della peste scusa ma quanta gente che è venuta al nostro matrimonio grazie adesso possiamo oh sì possiamo possiamo anche lei sì manda a casa vai via adesso andiamo a casa anche noi porca adesso ti ingravido magari ti chiamerò rotolino adiposo dudu da 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 na 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 la salsiccia di qualità lei è anche di rango più alto del nostro lei non posso rubargli questa c'ha anche un diamante ah ah però ma posso fregargli i diamanti io guarda che vanno sopra guardalo vai dov'è lei è sopra anche lì senti che rumori non oso immaginare cosa stanno facendo come lo stanno facendo più che altro perché cosa stanno facendo secondo me lo sta raschiando con la pialla per levare i due strati di lardo dai ingravida lassù ma una cosa non ho guardato io se ci ha sbloccato delle nuove strutture con perché adesso noi siamo di rango 3 sì bisogna bisogna andare a controllare gravidanza sì madonna mia detto questo io vi ringrazio della compagnia ci vediamo domani ci vediamo domani e io vi auguro una buona notte mi raccomando fate dolci sogni ma non sognate assolutamente vratislava perché se no davvero cascate dal letto se poi casca anche lei so cazzi rosalindo rosalindo buonanotte ci vediamo domani ciao ciao ragazzi